La tenuta di Paganico è una caratteristica azienda agrozotecnica situata nel cuore della Maremma Toscana. Ha un'estensione di 1500 ettari, dei quali 1100 sono posco e 400 terreni agricoli. Acquistata dalla famiglia Uzielli nel 1922 e passata dalla tradizionale mezzatria alla conduzione diretta. Costituisce un esempio di compiuta integrazione tra le moderne tecnologie produttive e le tradizionali risorse naturali del territorio maremmano, con allevamento di bovini di razza chianina e maremmana, di suini di cinta senese e di equini di razza maremmana, con coltivazione di cereali e di foraggi, produzione di olio e di vino doc Montecucco e selvicoltura. Le vacche e i tori, oggi circa 170 capi, vivono allo stato brado nei prati, nei pascoli e nel bosco. Dopo lo svezzamento e quindi a circa 6 mesi di età, i vitelli vengono suddivisi in manze destinate alla riproduzione e vitelli per la produzione di carne. Crescono sempre con la possibilità di muoversi liberamente nei box e negli ampi spazi esterni protetti. Il modello aziendale si fonda sulla convinzione che il binomio agricoltura-biologica-agriturismo costituisce, per una terra-vocazione rurale e ricca di bellezze naturali come quella maremmana, un modo ottimale per garantire anche nel futuro un sviluppo economico eco-compatibile. L'azienda, dal 2002, è stata convertita ai metodi dell'agricoltura e della zootecnia biologiche, secondo una strategia che interpreta il biologico non come un approccio improvvisato, ma come una rivisitazione sistematica delle tecniche, delle abitudini e degli strumenti utilizzati per secoli in maremma, sulla base tuttavia di competenze e tecnologie innovative. L'azienda opera in tutte le sue scelte produttive nella salvaguardia dell'ambiente concepito come risorsa indispensabile che deve essere tutelata da ogni tipo di dissesto. A tal fine si sono favorite le diversità e la complessità delle colture, con il recupero sia di rare specie autoctone che delle superfici boschive e con la tutela delle macchie spontanee degli specchi d'acqua. In nessun ciclo di fertilizzazione vengono utilizzati prodotti chimici di sintesi e contemporaneamente si persegue l'eliminazione di ogni possibile fonte inquinante, utilizzando il più possibile l'omeopatia come cura degli animali. La decisione di intraprendere la strada del biologico comporta un'attività fortemente vincolante, più complessa di quella ordinaria, che ha scelto di rinunciare alla corsa verso una produzione di quantità, ricercando invece la qualità. Le attività culturali e zootecniche della tenuta di Paganico hanno il supporto di agronomi e veterinari ricchi di esperienza e di una forte passione, quella stessa che spinge la proprietà a far crescere l'azienda nel rispetto della storia e del territorio, inteso non solo come eredità avuta dagli avi, ma soprattutto come prestito o concetto dai tosteri.